Buongiorno! 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 Come state? Fra due minuti gli diamo di portarci il cappuccino e tutti ce lo porti. È tutto video! Buongiorno! Grazie! Grazie! Mi chiamo Emanuele Vicinanza e lavoro per Deus Ex Machina in Italia. Mi chiamo Alessandro Rossi e lavoro per Deus Ex Machina in Italia. Questa moto è potente, è moderna, ma ha molte cose che ci ricordano del passato. E questo è qualcosa che mi piace molto. Mi piace molto di questa moto, il tank, che è moderno e carico, e il fairing, che è molto particolare e unico. Devo dire che quando stavamo guardando il target del nostro speciale, siamo immediatamente arrivati alla fine idea, alla fine perfetta risulta di questa moto. Se qualcuno ride questa moto, è usata sicuramente, a full gas, non compromiso come la moto, e solo attraverso la moto. ... ... ... ... La prima volta che lavoravamo con Yamaha e è stato un grande piacere. Il mondo che può definire questa macchina è forte, è potente, è unico, perché non c'è qualcosa di simile, e è la macchina che vogliamo.